A Giovanotti c'è chi dice no, è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, che ha posto il veto alla tappa vestese del Giova Beach Party. A tutt'oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto, ha dichiarato Barbato, la ragione è la scarsa sicurezza dell'organizzazione e quindi il non poter garantire l'incolumità dei fan. Il prefetto si fa scudo della proposta degli organizzatori risalente a marzo. Questa fu bocciata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e, da allora, mai più rinviata con le modifiche richieste. La data del 27 agosto così rischia risaltare e con essa uno degli appuntamenti più importanti dell'estate vastese. Questa è veramente una roba, una follia. Quasi 40.000 i biglietti già venduti per un giro d'affari legati all'offerta turistica di diversi milioni di euro. Questo lo sa bene Alfredo Cremonese, neossessore al turismo del comune di Pescara, che intende cogliere l'occasione al volo per soffiare a Vasto il concerto di Lorenzo Cherubini, questo è il vero nome di Giovanotti. Cremonese, che di certo non teme le proteste degli ambientalisti che il Giova Beach Party si trascina dietro per tutta la penisola, ha riferito di aver già ricevuto l'approvazione del sindaco Carlo Masci. Alvia quindi la gara tra le due cittadine costiere su quale spiaggia dell'Adriatico dovrà ospitare il concerto che, per ora, rimane in bilico. Grazie, grazie, grazie so molto!